L'avvio della nuova edizione del Grandi Fratello è imminente, con la prima puntata prevista per il 16 settembre. Tuttavia, le ultime notizie riguardanti il cast suscitano curiosità e incertezze. Un particolare interesse era stato suscitato dall'annuncio di un noto attore e modello come potenziale concorrente, una scelta che aveva entusiasmato molti fan del programma. Il sito Davide Maggio aveva anticipato l'ingresso di questo affascinante attore nella casa più spiata d'Italia. Ma recenti sviluppi suggeriscono un ripensamento. Nonostante le aspettative, Alfonso Signorini, il conduttore e grande burattinaio di questa edizione, sembra avere dei dubbi. Infatti, stando alle ultime informazioni, il contratto dell'attore non è ancora stato firmato e persistono delle incertezze riguardo la sua effettiva partecipazione al reality. Questo scenario di incertezza aggiunge un ulteriore livello di suspense e attesa per il debutto della nuova stagione. I fan sono in attesa di conferme ufficiali nei prossimi giorni per vedere se questo volto noto sarà effettivamente parte del cast o se le trattative si riveleranno infruttuose. Nel frattempo, il countdown per il Grande Fratello continua, promettendo colpi di scena già prima del suo inizio ufficiale. Il futuro di Lorenzo Spolverato all'interno della casa del Grande Fratello rimane incerto, nonostante il giovane attore abbia già registrato una clip di presentazione in vista della sua possibile partecipazione al reality. Nato a Milano nel 1996 e formatosi alla prestigiosa scuola di recitazione dell'Accademia milanese, Spolverato ha maturato esperienze sia nel teatro che nel cinema, partecipando a diversi cortometraggi. Alfonso Signorini è il team di autori del Grande Fratello, tuttavia, sembrano avere delle riserve sulla sua inclusione nel cast. Queste perplessità potrebbero derivare dal fatto che Spolverato, nonostante il suo background artistico, non è estremamente noto al grande pubblico, il che potrebbe influenzare la reazione e l'interesse degli spettatori. La decisione finale riguardo la sua partecipazione come possibile ultimo concorrente VIP per questa edizione non è ancora stata presa. Il dibattito interno e le possibili reazioni del pubblico stanno giocando un ruolo chiave in queste valutazioni, mettendo in luce la complessità e le sfide nella selezione dei partecipanti che possano garantire dinamiche interessanti e seguito televisivo. Nel frattempo, la comunità di fan e gli spettatori del Grande Fratello attendono con impazienza ulteriori sviluppi, sperando di scoprire presto se Lorenzo Spolverato varcherà o meno la soglia della famosa casa.